Salve a tutti amici, ciao a tutti per questo nuovo video, io sono Salvo Pimpos e oggi siamo alla Domenica Horror Oggi continuiamo la nostra fantastica avventura horror a Resident Evil 7 L'altra volta Mia mi ha ucciso con la sua fighissima di motosega Cerchiamo stavolta di ucciderla, mi avete detto di sparare alla motosega piuttosto che in testa come cercavo di fare io la scorsa volta Quindi adesso vediamo di sparargli Sparargli nella motosega Prendiamo qui le nostre bellissime armi, vai tizio Intanto abbiamo un bel braccio mozzato Ok perfetto niente tizio, c'è un braccio mozzato, non so se te sei accorto ma c'è un braccio mozzato Qua c'erano munizioni mi sembra, qua perfetto E qua ci sono altre munizioni Andiamo tizio preparati ad uccidere tua moglie Uccidi tua moglie che quella ti vuole ammazzare a te Perfetto, perfetto, andiamo ragazzi Andiamo, stavolta ti spacco la motosega Stavolta non potrai fare niente Ti spacco la motosega Andiamo, andiamo Ti spacco tutta, ti spacco Bastarda via, 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 via Sei bastarda proprio sei Ma perché ti accannisci contro tuo marito? Io non ti ho fatto Abbaffa, già Vieni qua, vieni qua, vieni qua No, no, no tizio però, però tizio dopo Dopo la motosega tizio Già partiamo malissimo Via, 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 via La porta me ne vado, me ne vado Vattene tizio, vattene È chiusa, no, no È aperta Via, via, tizio, tizio Via, 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 via Dov'è? Pure 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 Via, via, ricarica, tizio Andiamo, 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 tizio Via, di qua, di qua, di qua Di qua Oh, oh È chiuso Dov'è? Dov'è? Oh Niente Che succede? Che Che cacchio fai? Aiuto, raga Questa spacca i muri Come la marmellata Come il burro Questa la spacca Via, Ethan, via Via, Ethan Dov'è? Dov'è? Ah, siamo ritornati là Pure Via, 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 via Aiuto Cioè, facciamo il giro, giro tondo O dov'è? Dov'è? Aiuto Cioè, questa spacca le porte Bastarda Vieni qua Vieni qua No, via, 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 via Eh, ma Non muore, però Non mu- Dov'è? 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 Qua Muori Muori Che ti spacca la motosega Via, 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 via Eh, ma che cacchio Ethan Ma ti smuovi, Ethan A camminare Ti smuovi però È dura Muori 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 Via Via, Ethan Via Dov'è? Vieni No, no Ma che palle No, via Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua Muoviti, muoviti Curati Non è più per curarti Niente Eh, eh, niente Sei destinata a morire, tizio Questa qua non riusciamo a sconfiggerla Muori Muori Via, 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 via Vieni qua Vieni qua, vieni qua, picciritta Vieni qua Ma che cazzo devi fare No, via, 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 via Aiuto Aiuto Muori Muori Sei morta Ti amo Ma che cacchio ti amo Che cosa mi ammi Che mi ammazzi Vabbè Ora non ti alzare perché veramente ti spacco la te Dagli un calcio Ehi, Tanne Dagli un calcio Ma porco schifo Ehi, Tanne Ehi, Tanne Ma pure tu Ma pure tu perché ti vieni a cacciare in queste situazioni Dove andiamo ora? Ora, dalla scala non posso più salire Quindi dove vado? Chi è? Chi è questo? No, fammi capire Sfuggo da una e mi Pure Ma baffa Cioè, ma chi è questo? Sfuggo da una e C'è un altro No, fammi capire Ma a posto siamo Cioè, raga Sto gioco Dove siamo qua? Chi è? Dove mi stai portando? Cioè, tutte e due ci sta portando questo Dove stiamo andando? Ragazzi, la cosa si fa molto interessante Molto, devo dire Non morire proprio ora Hai del lavoro da fare Ma chi? Che stai facendo? Ah, mi sta ricucendo il braccio La mano Con la spillatrice Ah, molto Devo dire Ha avuto una laurea In medicina Veramente Per fare queste cose Fantastico Ah, quindi adesso Ho riacquistato il braccio Spillato Con una spillatrice Bellissimo Che cacchio Dove mi trovo? Oh Che dia No, non ne ho fame Tranquilli Dov'è mia? Tranqu Mangiate Fate come se non ci fossi No, no, grazie Non ho fame Ho mangiato poco fa Un pacco di crackers Cioè, questo tagliabbraccio Pure a suo figlio E quello Quello è come se fosse Tutto naturale Che vuoi? Era da me No, no, no Tranquillo Fa come se avessi accettato Te, tizio Ma fatti i cazzi Non ne ho fame Signora, grazie Signora, la ringrazio Ma io ho fame Non ne ho Eh, eh Mangiala tu, tizio Tranquillo No, grazie No, grazie E poi No, grazie Che cacchio fai? Aiuto No, basta Che è? Pure La polizia Vi prego Aiutatemi Polizia Aiuto Polizia Qua mi vogliono Ammazzare Che faccio Signora Signora Ma sta signora Che fa qua? Mi libero Tizio Liberati Tizio Eitan Buttati Atterra Bravo Bravo Signora Salve Signora Che fai? Dormi Sei morta Sei viva Chi è? Qua sento rumori Io Un frigorifero Che cacchio Sono interiore Cioè Ma che schifo Ma che cacchio È? Che cacchio Di famiglia È questa? La famiglia Adams Qua non si apre Qua che c'è? Salve Che è? Scegli un oggetto da usare Una botola chiusa Pure È chiusa Eh sì Ho notato È chiusa Ma porco schifo Ma perché tutte le porte sono chiuse? Qua che c'è? Niente Qua non c'è niente Qua che c'è? Che è? Una pianta Erba Buono Ce la fumiamo O ci curiamo con l'erba Penso alla seconda Una bottiglia di candeggina Poi che c'è? Qua non c'è niente Un'altra cassettina Munizioni Per pistola Io pistola non ne ho Pucciamo da sta porta È aperta questa Tanto per cominciare Sì Perfetto Salve Qua che abbiamo Cassettiera Chi è? Ma tutto chiuso È in questo cacchio di gioco Ma fatemi trovare qualcosa aperta Qua che abbiamo Garage Questa eh? Sembra fragile Forse potrei usare qualcosa per romperlo Garage Garage Sì Tizio So leggere Anche se non mi spunti la traduzione Ma so leggere Qua che c'è? Il nastro adesivo è così tenace Che non sembra venire via Mani nude C'è nessuno Sono salvo Pimpo Qua che c'è? Ah qua siamo praticamente di nuovo In cucina Quindi usciamo di nuovo Qua che c'è? È chiuso dall'altro lato Buono Continuiamo di qua C'è nessuno Qua che c'è? Non c'è niente C'è Oh Tizio non sono qui Tizio non sono qui Tizio non sono qui Oh oh No via 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 Ma perché mi insegue il mondo in questo gioco? Via tizio corri Via 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 No 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 di là chiuso No ti prego non sono qui Nooo Che faccio? Devo andare di là Ma vaffanculo muori Via 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 Andiamo di qua Corri tizio ti prego salvati Ma vaffanculo ma muori Ma perché? Ma perché mi insegue il mondo in questo gioco? Perché mi insegue? Dove vado? Andiamo di qua No di qua è chiuso Dove vado? Eh ma che palla Questo mi insegue per tutta la casa Vieni qua dove vai? Dove vai? E io me ne vado di qua Me ne vado di qua Via tizio corri Corri tizio Andiamo di qua Andiamo di qua Velocitizio dove vado? Non lo so manco io Dove vado? Che c'è qui? Chiave Chiave botola No 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 Lasciami 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 La chiave della botola l'ho trovata Ma la botola ora dov'è? Aiuto Era qui la botola Come lo giro ora sto strombolo Ti prego Lasciami No Via via Ma baffanculo Non mi muovere da qua Da qua Da qua Via 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 adesso Via tizio Veloce tizio La botola è qui Apri la Via No Ma lasciami Ragazzi sono morto Con una gamba Che è? La gamba Tizio prenditi la gamba Tizio Usa questo per sistemare la gamba Cioè mi fa pure gli sfreggi Cioè mi devo prendere la pozione davanti a lui E quello mi ammassa Usa la soluzione medica Curati tizio Come ti curi? Fammi capire Ah ti appoggi la gamba E ti spruzzi sto coso E già si E già si salda Che cacchio è? Ma che cazzo Ma che cazzo è? È una cosa magica Che sono stregoni Che è? No no Fammi uscire di qua Ti prego via Apri sta cacchio di cosa Via 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 Tizio dobbiamo aprire la botola Dove cacchio è? Via 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 Sono morto Ma vaffanculo va Tizio veloce Vai ti Apriti Subito Scendi 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 Ma vattene Dove cacchio sono? Qua che sto morendo pure Ma posso curarmi da qualche C'è la piantina C'ho Uso la piantina Perché sto morendo La uso va Uso oggetto Meglio di niente Meglio di niente Sto morendo Qua che c'è? Moneta antica E che ci faccio? Che sono sti passi? Oh Non mi farei scherzi Perché ti prendo a testate Tizio la palla Te la faccio mangiare Andiamo Salvataggio Buono salviamo Sono un po' morto Ma salviamo Va Una cassa Puoi immagazzinare i tuoi oggetti qui Ah come in tutti i classici Resident Evil Ma per adesso non mi interessa Un fogliettino Mappa Mappa principale Ma qua dove siamo? Siamo in lavanderia Fantastico Qua che c'è? Eeeh Fluido chimico Per fare che cosa? Ed erba Combina gli oggetti dell'inventario Cioè Combina Erba e fluido chimico Otteniamo una soluzione medica Oh buono Mi piace Buono mi piace Perfetto Oggetti Insomma Però risparmiamoci la soluzione medica Va per ora possiamo tirare un pochettino avanti Ah una porta Qua che c'è? Qua non c'è niente Qua che c'è? Una scatola Ruota Che c'è? Un cacciatore Un grimaldello Boh Mi ho preso il grimaldello Vabbè Usciamo L'hai sbloccata Dove siamo Chi è? Chi è? Telefono Pronto Salone Salone d'ingresso Uno smartwatch Ragazzi c'ho lo smartwatch Dobbiamo uscire dal salone d'ingresso Cioè Dove sarebbe sto salone d'ingresso? Non c'è E quindi ancora Forse lo dobbiamo vedere ancora dove è E usciamo va Lui mi ha beccato qua Speriamo che non c'è Chi è sto coso qua? Ruota Una fotografia Tagliata Qua che c'è? Altre foto Bello sei Il suo viso trasmette un senso di arroganza Bello sei Questo chi è? La famiglia al completo Cioè belli Bella Bella coppia che è formata Veramente Qua sarebbe questo Il salone d'ingresso Può essere Che c'è? Scegli un oggetto da usare Il rimaldello Non c'è alcuna serratura Meglio così E questo è il salone d'ingresso Salone d'ingresso Qua è mai chiusa Buono Meglio così Vediamo che c'è qua Chi è? Ehi I pupazzetti Ah questi si distruggono forse Perché in Resident Evil ci sono cose da distruggere Spesso ci sono oggetti da trovare e distruggere Quindi poi ci proviamo Poi troviamo qualcosa con cui distruggerli Chi è? Chi è quello? Chi è? Che vuoi? Eh sto venendo Che vuoi? Che? Aspetta Vedo che c'è qua prima Chiuso col rimaldello Apri tizio Aspetta Aspetta sto cercando che cosa c'è Sto vedendo che cosa c'è Assoluzione medica Buono Buono Eh che vuoi? Qua sono Chi è? Sia fermo dov'è Dunque Lei abita qui signore? Cioè voglio dire È casa sua? Cosa? Io? No No D'accordo Ci hanno segnalato alcune persone scomparse di recente Mi ascolti Mi faccia uscire di qui Si calmi La prego Ehi mi ha sentito Ci sono dei pazzi in questa casa Che vogliono uccidermi Va bene Ma mi permetta di dirglielo Neanche lei mi sembra che abbia tutte le rotelle al loro posto Dice davvero Allora Come ho detto Indaghiamo su persone scomparse E non potrei escludere Che un tipo sconosciuto come lei Non c'entri nulla Ma baffa Apri Apri Cosa vuole sapere? Perfetto Iniziamo a ragionare Ok Incontriamoci nel garage Continueremo lì Mi lascia già Mi serve la sua arma Dammi un'arma tizio Tizio dammi una pistola Pure Pure il pignolo fai Boh Ti do una testata Per adesso Ti do una testata Vuole salvare un innocente Avanti Dammi la pistola E state zitto Un coltellino del cazzo Eh un coltellino mi da Ecco Lo prenda Non posso darle altro Ma baffa E' schifo Andiamo al garage Che me ne faccio di un coltello Eh tizio Non lo so Ma meglio di niente Ah ecco Il coltello Deve distruggere quella cosa Vediamo se si distrugge Vediamo Vediamo Vai Vai tizio Colpisci Ah Fantastico Lo sapevo si distruggeva Noi dobbiamo collezionare Tutti questi omincoli Tutti questi pupazzetti Buono Meglio così Andiamo Andiamo al garage Vediamo che cosa C'abbiamo al garage Prima devo trovare il garage Di qua Mi sembra che era di qua Garage Qua 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 Intanto abbiamo una cassa a destra Poi sai che con il coltello Possiamo aprirla Ah spaccato Munizioni e pistole Perché mi date le munizioni Alla pistola Che la pistola non ce l'ho Che cacchio Curiamocela tizio Perché qua Non lo so Ho paura Intanto abbiamo un'altra soluzione Via Avanti Adesso puoi aprire qua Apriamo 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 Tizio Apri qua Non ti tagliare un'altra mano Possibilmente Perché la pinzatrice Non ce l'abbiamo più Schiaccia qua Ok Che è Abbiamo aperto il garage Bellissimo Avanti Sono qua Che fai Edda E poi te lo spiega Intanto andiamo Ce n'è Tizio si sta chiudendo dietro Tizio 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 Ma perché parli Perché tizio Tizio Perché devi parlare Tizio Pure 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 Oh La pistola La pistola Prendila tizio Tizio prendila la pistola Cambio Gita equipaggiato Scappa Tizio Scappa Veloce Tizio Scappa No Via 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 Che c'è qua Chiavi della macchina Che faccio con la macchina Tizio sali in macchina Allora Tizio veloce Tizio Accendi Accendi tizio Lui si fotta la macchina E prenditi la pistola Allora Qua abbiamo le chiavi Dove erano Di là Quindi adesso io lo attiro da dietro la macchina Così lui Così lui non può salire macchina Vieni qua Picciriddo Vieni qua che mi prendo le chiavi Vieni qua Aspetta Aspetta Ok Adesso lo attiriamo di qua Via tizio Anzi dall'altro lato Veloce tizio Possibilmente Via tizio Veloce Via tizio Veloce Via tizio Veloce Eh ma se non sali tizio Ma baffanculo tizio Ma pure tu Ci metti pure tu Che vuoi da me Niente Devi morire Devi morire Avanti Muori Muori Vaffanculo Vai tizio Sali in macchina Tizio Sì 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 Accendi tizio Accendi la macchina tizio Accendi la macchina Via 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 Investilo Tizio Ammazzalo Via Che devi morire Tutto schiacciato Come mi hai fatto morire tu poco fa Dove sei Vieni Ti spacco le gambe Muori Pure che non sai guidare Tizio Pure che non sai guidare Accelera Così Si investono le cose Vai Dove sei Dove sei Dov'è È morto È morto È morto Oh Oh Non mi fa Chi è No Che faccio No Eh ma che No A scuola guida Forse Forse devo cambiare Tizio Tizio ma guardati tu Dove hai imparato a guidare Che manco sai prendere un po' di mira È morto ma Non credo che questo sia morto Vaffanculo Intanto esploriamo un poco qua Va Più che si rialza È bastardo Sempre se si rialza Spero di no Qua c'era qualcosa Un armadietto Una soluzione Buona Andiamo 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 Che facciamo No No Via mori 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 Via mori Scappa 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 Scappati Tizio Scappati Ma la finiamo di rialzarti ogni 30 secondi Ma muori E basta Muori Che cacchio è successo Che cacchio è successo Ho la pistola scarica Tizio rompi qua Tizio mettete il coltello Tizio rompi Munizioni Via C'è una scala Me ne vado tizio Ti lascio qua Baffanculo Ciao tizio Ciao Me ne andiamo Andiamo No ancora no E che pa No Ti sta ammazzando Hai fatto bene Finalmente Finalmente hai capito Quello che dovevi fare Ma porca la miseria Ma me ne fai andare Ma me ne fai andare Sono un po' distrutto Sono Sono un po' distrucchè Che c'è qua Cartucce per fucile Il fucile dov'è Perché trovo prima le munizioni E poi trovo le armi Che è Un cavallo Un toro Un toro Forse lo mettevo nella porta Apri qua tizio Apri qua Stacca tutto Toro Statuetta del V Forza Oh Ora si Ora si Forza Rompicca Leva Scippa Tutto il mondo Scippa Dove siamo qua Ah Andiamo nel garage Perfetto Perfetto Speriamo che non mi rompa nessuno le scatole Stavolta Andiamo andiamo tizio Andiamo 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 Salva tizio salva Vediamo se riusciamo ad aprire quella porta Mettendoci la statua del Bue Vediamo Metti qua Metti qua Statua Fatto Si è aperta Ragazzi Si è aperta la porta Possiamo uscire da questo inferno No No Altro inferno Che sembrava l'uscita Invece proprio siamo Siamo proprio nel bel mezzo della casa Va bene ragazzi Direi che ci siamo presi abbastanza spaventi per oggi Mi raccomando tanti bei like Così vi porterò altri video su Resident Evil 7 Ovviamente lo continuerò Vi ricordo di proseguirmi anche sulle page Facebook Twitter Insegamo a tutte le social Di culture di link di stazione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi torniamo su Minecraft Pocket Edition Oggi ragazzi Oggi finalmente Andremo a cercare Il portale Per land Perché ovviamente Voglio sconfiggere il drago Basta lanciare l'occhio E vedere